io sono paolo valabrega sono socio dell'accademia delle scienze ho insegnato per oltre 40 anni geometria al politecnico di torino chi ascolta una conferenza o legge un libro un articolo di storia di letteratura di arte figurativa anche se lontano da queste discipline ori capisce o ritiene di capire gran parte di quanto viene detto può incontrare maggiori o minori difficoltà a seconda del linguaggio usato e delle sue proprie conoscenze dell'argomento ma si trova pur sempre di fronte a termini ed espressioni in gran parte noti naturalmente l'impressione di capire può corrispondere solo in parte alla realtà effettiva se il lettore o ascoltatore non è un esperto qualcosa di simile avviene quando si parli di biologia o di medicina anche se forse capire in questo caso costituisce una parziale illusione in effetti di questi tempi in cui si nominano continuamente proteine vaccini linfociti difese immunitarie antigeni anticorpi tutti sono convinti di sapere magari non perfettamente di che cosa si tratta in realtà non sanno che cosa è con precisione una proteina e si trovano di sicuro in difficoltà di fronte a termini quali esprimere o codificare ad esempio codificare una proteina l'impressione di capire proviene dal fatto che i termini e le espressioni usate sono entrati nel linguaggio comune grazie ai giornali e alla televisione e forse anche dall'interesse ad avere informazioni su questioni che interessano da vicino un altro settore della biologia che molti pensano di conoscere è la teoria darwiniana dell'evoluzione delle specie il linguaggio apparentemente comprensibile induce a far credere di sapere di che cosa si tratta e magari a far credere che abbiano senso derivazioni ed estensioni non biologiche ma sociali psicologiche economiche come la sopravvivenza del più adatto estesa con disinvoltura dalla biologia al mondo economico e sociale anche qualche tematica di fisica può indurre l'impressione di capire ad esempio si parla molto della teoria delle relatività di einstein nelle pagine culturali dei quotidiani o in televisione e molti pensano di capire che cosa significa che lo spazio è curvo che la misura del tempo è relativa che esistono i buchi d'eri da cui non esce luce che gran parte di ciò che esiste nel cosmo e materie oscure così via molto attraente naturalmente l'estensione impropria di concetti fisici della teoria della relatività a campi lontani dalla fisica magari sociali molto meglio va per tutti o quasi con la storia ad esempio possiamo scegliere un pezzo all'interno del volume scritti sul risorgimento di gaetano salvemini a pagina 49 149 l'inizio dello scritto su giuseppe mazzini che dice la prima metà del secolo diciannovesimo fu dominata da un grande movimento di reazione contro il pensiero classico materialista irreligioso del secolo precedente non è detto che un lettore capisca a ogni parola ma nell'insieme si tratta di un'affermazione comprensibile ai più senza bisogno di profondi studi precedenti o di padronanza di un linguaggio inusuale materialista irreligioso reazioni sono parole chiare a tutte o quasi naturalmente anche la lettura di salvemini sarà più chiara una persona colta che a una meno colta ma non al punto per la seconda di non capire nulla fin dall'inizio si tratta pur sempre di parole della lingua italiana usate in un senso che un buon dizionario può illustrare per quanto riguarda la matematica il discorso è decisamente diverso in primo luogo occorre notare che essa usa ampiamente termini ed espressioni del linguaggio comune in un significato completamente diverso da quello indicato nei dizionari che può lasciare interdetti gli ascoltatori o i lettori ecco un elenco molto incompleto di questi termini che vedete qui nella slide ce ne sono tantissimi io ne ho segnalato qualcuno in grassetto anello integrale parabola teorema trascendente perché fra poco ne parleremo ma ce ne sono tantissimi alti algebrico compatto campo derivata divisore dello zero dominio tantissimi l'elenco potrebbe continuare a lungo e contiene solo termini o espressioni che hanno un significato anche nel linguaggio comune ci sono poi altri termini eccoli qua qualcuno inventati dai matematici cobordismo contro variante comologia parole che credo dicono poco ha pressoché tutti esclusi i matematici alcuni matematici vediamo il significato matematico di alcuni di questi termini secco anello secondo il vocabolario zingarelli della lingua italiana significa come vedete lì cerchietto d'oro d'argento o d'altro metallo che si porta alle dita delle mani in chimica anche un significato in matematica solido generato da una figura piana chiusa o anche un insieme di oggetti fra i quali sono possibili due operazioni una somma e un prodotto con alcune proprietà queste proprietà in realtà sono note a tutti fin dalle scuole secondarie perché sono le proprietà di quello che si chiama l'anello dei numeri interi poi c'è l'integrale l'integrale secondo lo zingarelli integrale significa intero totale ma anche se un significato matematico il calcolo integrale dice lo zingarelli e lo studio dell'operazione di integrazione delle sue applicazioni lo zingarelli non dice che l'integrale di una funzione in un intervallo è un numero che si ottiene dalla funzione con un procedimento di approssimazioni successive che corrisponde ad un'area non lo dice e questo in sostanza non può dirlo è una cosa già complicata da matematici poi la parabola secondo lo zingarelli è un discorso di Gesù in forma di racconto per stabilire paralleli a fine morale ma anche ha un significato matematico anzi ne mette vari lo zingarelli conica tangente alla retta impropria penso incomprensibile ai più ovvero sezione di un cono circolare retto ottenuta con un piano parallelo a una generatrice o anche luogo dei punti di un piano equidistanti da un punto e da una retta tutte definizioni corrette ma credo non chiarissime veniamo al teorema lo zingarelli qui non ci aiuta molto un teorema dice è un'affermazione che in una teoria viene dimostrata logicamente a partire dagli assioni l'undicesima edizione dello zingarelli che risale al 1983 non attribuisce al termine alcun significato fuori della matematica se invece consultiamo il dizionario della lingua italiana di tullio de mauro nell'edizione del 2000 troviamo anche scritto che un teorema nel linguaggio giornalistico è una interpretazione dei fatti che individua un rapporto fra una serie di episodi specialmente criminali e questo un caso interessante un termine matematico teorema per indicare un'affermazione di cui si può dare una dimostrazione rigorosa è entrato alla fine degli anni settanta nel linguaggio comune grazie alla definizione di teorema data da alcuni giuristi alle argomentazioni di un pubblico accusatore impegnato contro i brigatisti rossi il termine decisamente negativo si riferiva allo stravolgimento di principi giuridici consolidati in base ai quali una prova consiste di fatti assodati ritrovamenti di strumenti per la commissione del reato testimonianze convergenti attendibili mentre un teorema era costituito solo da una argomentazione logica astratta cioè in realtà paradossale il termine teorema denota un'affermazione che non ha dimostrazione cioè il contrario di ciò che i matematici considerano teorema si vede da questo esempio qual è la considerazione in cui è tenuta dai giuristi dai giornalisti e dall'opinione pubblica in generale la matematica sarebbe stato forse più opportuno chiamare le argomentazioni dei giudici non teoremi o falsi teoremi questi elenchi che potrebbero essere ampia ampliati e di molto fanno già capire che l'ingresso nel linguaggio della matematica per un non addetto può essere difficile già fin dalla comprensione dei termini c'è dunque nella matematica qualcosa di diverso dalle altre discipline che la rende particolarmente ostica e incomprensibile ai più talvolta anche ai matematici stessi quando si tratti di argomenti non vicini al loro settore di ricerca o di studi una difficoltà di comprensione che inizia negli studi scolastici e diviene poi parte del sentire di tante persone per tutta la vita i termini e le espressioni sono il primo ostacolo come abbiamo visto tutti questi termini anche della lingua comune usati in modo ben diverso poi c'è il linguaggio formale se il secondo ostacolo è il linguaggio formale spinto talvolta non sempre magari all'estremo questo linguaggio che riguarda gli enunciati le loro dimostrazioni un terzo ostacolo consiste nel fatto che ben poco di matematico si trova scritto in lingua italiana solo libri articoli magari anche importanti di parecchi decenni fa oppure libri di testo mentre oggi molto di quanto scritto nel mondo è in lingua inglese un quarto ostacolo che probabilmente è il principale ostacolo per chiunque non sia matematico consiste nella complessità dei ragionamenti e delle argomentazioni che richiedono molte nozioni preliminari e l'uso accorto di teoremi e ragionamenti precedenti vorrei illustrare tutto ciò con alcuni esempi ecco qua particolarmente ostico fin dagli inizi di sicuro è il linguaggio della logica nel volume di teoria degli insiemi intitolato set theory teoria degli insiemi tradotto in italiano di thomasieck a pagina 1 quindi proprio l'inizio del libro si trova un elenco di assiomi termine noto dagli studi secondari di geometria euclidea ma forse non del tutto chiaro nemmeno questo il primo è il cosiddetto assioma di estenzionalità se x e y hanno gli stessi elementi allora x uguale y si tratta di un enunciato sconcertante per un non matematico che si può chiedere ma che bisogno c'è di dire che se due insiemi hanno gli stessi elementi allora sono uguali non è ovvio poi si aggiunge le formule della teoria degli insiemi sono costruite a partire dalle formule atomiche quel segno quell'x con una specie di epsilon e poi un y si legge x appartiene a y e l'altro x uguali y per mezzo dei connettivi e dei quantificatori qui credo che ogni non matematico si sia perso e non riuscirà mai ad arrivare a pagina 705 la fine del libro e capire qualcosa e forse nemmeno a pagina 15 una piccola cosa però va aggiunta segnalata sulla logica e riguarda il famosissimo matematico godel nonostante le difficoltà che presenta un testo di logica è diffusa l'idea che sia comprensibile il famosissimo teorema di godel poco inferiore per fama forse alla teoria della relatività e alla evoluzione delle specie sul suo significato molti equivocano talvolta anche scienziati forse l'idea che non tutto si possa dimostrare costituisce una notevole attrattiva che fa superare la difficoltà di afferrare concetti molto difficili vediamone ancora uno ecco di poco migliore rispetto alla logica è l'inizio del primo volume del trattato di introduzione ai metodi della geometria algebrica dal titolo commutative algebra algebra commutativa di oscar zarischi famosissimo matematico e del suo allievo e collaboratore pier samuel che inizia con le operazioni binarie e dice sia g un insieme arbitrario di elementi abc un'operazione binaria in g è una regola che associa ad ogni coppia ordinata a b di elementi di g un unico elemento c di g anche qui risulta un'impresa molto difficile arrivare alla fine cioè la pagina 322 del primo volume poi ci sarebbe anche il secondo o anche solo arrivare a pagina 15 fra i matematici che non hanno simpatia per l'estrema astrazione e cercano di essere semplici e chiari citerei invece il professore torinese di analisi matematica francesco tricomi autore di un trattato universitario in uso 50 o 60 anni fa ma se apriamo questo trattato di analisi matematica pagina 1 1 troviamo scritto dati n elementi oggetti qualsiasi e un numero intero k non superiore a n diconsi combinazione di classe k di questi elementi tutti i gruppi che possono formarsi prendendo ciascuna volta k degli n elementi dati in modo che due gruppi qualsiasi differiscano almeno per un elemento non ci sono formule complicate e nemmeno espressioni incomprensibili ma la comprensione complessiva dell'enunciato è difficoltosa soprattutto per chi non prova particolare trasporto verso le combinazioni di imprecisati elementi vediamo ora come si presenta una dimostrazione matematica cominciando da un teorema veramente semplice che viene presentato non sono sicuro che sia anche dimostrato nelle scuole secondarie inferiori forse seconda o terza media il teorema afferma l'equazione di secondo grado x al quadrato più 2b x più c uguale a 0 ammette due soluzioni reali se c è minore di b al quadrato la dimostrazione la vedete scritta lì su quella su quella slide sono veramente poche righe si rielabora un po l'espressione x quadro più 2b x più c insomma la si scrive in un altro modo fino ad arrivare a capire che le due soluzioni sono x più b uguale la radice quadrata di b quadro meno c ovvero x più b uguale a meno la radice di b quadro meno c non senza aver osservato che siccome b quadro è maggiore di c b quadro meno c è positivo e quindi quelle radici esistono e quindi direi una una dimostrazione che si può considerare semplice ma credo che possa costituire un ostacolo non piccolo per chi non sa manipolare agevolmente un polinomio di secondo grado e si trova in difficoltà di fronte a coefficienti che sono lettere e non numeri proviamo ora a vedere due teoremi più difficili di questo che non si studiano certamente nelle scuole secondarie cominciando con un antico e bellissimo teorema dovuto al matematico e magistrato del seicento pierre ferma che è nato nel 1601 morto nel 1665 questo piccolo teorema di ferma dice siano più un numero primo n un qualsiasi numero non multiplo di p allora si a n elevato alla potenza p meno 1 uguale 1 modulo p il piccolo teorema di ferma è probabilmente incomprensibile alla maggioranza degli ascoltatori come pure la dimostrazione rigorosa del teorema che qui non mi sogno di presentare che richiederebbe di capire ragionamenti sofisticati sulla teoria delle cosiddette classi di resto potrebbe attrarre di più se si sapesse che in modo indiretto e immediato viene usato per rendere sicuro il bancomat e vediamo un secondo teorema che può suscitare perplessità ancora maggiori del precedente eccolo qua il numero reale pi greco è trascendente mentre molti pensano forse a torto di sapere che cosa significa pi greco ricordandosi della lunghezza di una circonferenza o delle funzioni trigonometriche il termine trascendente lascia interdetti si tratta di un aggettivo che viene usato comunemente nella lingua italiana con il seguente significato che è al di là di ogni conoscenza possibile così dice il dizionario dello zingarelli che ho consultato per la verità lo stesso vocabolario aggiunge un secondo significato non algebrico che è esattamente quello matematico ma è poco illuminante per quasi tutti non parliamo poi della difficoltà di presentare una dimostrazione che richiederebbe preliminari concetti ragionamenti complicati molto di più del precedente piccolo teorema di ferma che forse con un po di fatica e alla portata di qualcuno che pochino di matematica conosce questo richiede veramente insomma ragionamenti e nozioni anche difficili per correttezza vorrei aggiungere che gli stessi matematici si trovano spesso in difficoltà ascoltando conferenze di matematica in settori un po diversi dal proprio ricordo a questo proposito di avere tante volte sentito conferenze incomprensibili a me ea quasi tutti i presenti fin dal terzo minuto quando era stata riempita di simboli la seconda lavagna o compariva il quarto lucido non credo che questo avvenga mai nel caso di una conferenza di storia o di letteratura forse nemmeno di biologia mentre un amico fisico mi dice che avviene talvolta anche per la fisica credo si possa affermare in sostanza che la matematica è in gran parte difficile anche per i matematici vorrei però aggiungere che se si facesse uno sforzo di capire meglio la matematica di penetrare un po di più nella matematica si scoprirebbe che in realtà può essere applicata a problemi che interessano molti quasi tutti noi per esempio la criptografia e i codici segreti sono usati per i bancomat e i conti online per renderli sicuri i metodi probabilistici e statistici si applicano ai sondaggi elettorali ma anche ai giochi d'azzardo le equazioni differenziali e le approssimazioni numeriche si applicano alle previsioni del tempo sono proprio basate su sull'uso delle equazioni differenziali il gps che è notissimo è usato da tutti i navigatori delle automobili per esempio è basato sulla geometria analitica spaziale e per chi abbia un pochino di interesse alla pittura dietro spesso c'è la geometria ci sono la geometria descrittiva e la geometria proiettiva però bisogna dire che un articolo una conferenza che affronta affronti uno di questi problemi esclusa forse la prospettiva finisce col fare intervenire formule termini concetti difficili da digerire e quindi blocca qualunque lettore o ascoltatore molto presto e a questo punto interviene un elemento negativo decisivo vale la pena per un lettore o ascoltatore fare uno sforzo notevole per cercare di capire meglio qualcosa di interesse per lui limitato di cui non intravede un interesse maggiore ecco e qui vi faccio vedere l'elenco dei libri che che ho utilizzato citato se qualcuno fosse un pochino interessato o di più interessato alla matematica può andare a prendere qualcuno di questi libri e magari cercare da solo di capire se riesce a leggere qualcuna qualche pagina di questo libro e quali sono le difficoltà che incontra ringrazio tutti ho finito